Dopo un attacco di panico o più di un attacco di panico alcuni entrano in un atteggiamento del tutto nuovo che è il timore dell'attacco panico successivo. Tentano di fare qualsiasi cosa per prevenire, per non rischiare, non esporsi alla possibilità di un ritorno di quell'esperienza che è stata molto traumatica. Un saluto a tutti, oggi parliamo di un argomento meraviglioso, stupendo, bellissimo, il panico. Oddio mio, non è che mi odierete perché ho usato questo atteggiamento. Il panico è forse, come posso dire, una delle cose più interessanti da capire. Sapete, la parola panico deriva dal Dio Pan, Dio della natura. E' proprio un termine perfettamente indovinato perché quando parte il panico, a un certo punto, diciamo, il governo, il timone, lo prende proprio la natura. E perché la natura lo prende? Perché noi veniamo espropriati durante l'esperienza del panico? Ma se io non sono accogliente con il mio corpo, per esempio, per fare un esempio, oppure con certi contenuti della mente, cioè se io sento a un certo punto le mie gambe meno salde, meno ferme, oppure sento che il battito è cambiato un po' passo, sento il battito e prima non lo sentivo, come se stesse iniziando qualcosa, stesse per avvenire. Ecco le parole che usano le persone quando si riferiscono al panico. Stavo per avere un attacco panico. Oddio mio. Stavi per avere un attacco panico. Perché il panico è una cosa che ancora... Se non c'è, non c'è. Se c'è, c'è. Quindi l'espressione, vedi, sto per avere un attacco panico, è un commento perfetto nel suo contenuto sbagliato. È perfetto per indicare il centro dell'errore che può compiere la persona. Attenzione, cambia il nostro respiro, cambia il nostro battito, cambia la nostra saldezza, la fermezza della... Cambia le sensazioni anche all'interno della testa con leggero capogiro, senso di annebbiamento. Perfetto. Quelli sono sensazioni amiche che si vengono per dire ragazzo, amico, amico, guarda, vada bene, un attimo. Calma. Dicono calma per dire mai più piano. Allenta la presa. Allenta la presa. Le modificazioni dell'ansia che obbligano in qualche modo il corpo a dare segnali, perché poi l'ansia io l'avverto attraverso il corpo. Se non ci fosse il corpo a segnalarmela io sarei senza nessuna indicazione, senza nessun aiuto che possa venirmi dall'ansia. L'ansia. Ok? L'ansia è sempre aiuto. Sempre. Per dirmi un momento. Guarda, un attimo. Fermati un attimo. Rallenta un attimo al passo. Lo puoi rifare dopo. Il corpo non ci ha mai costretto a niente. È meraviglioso il suo rispetto verso di noi. Non è altrettanto bello il rispetto scarso. L'attenzione è scarsa. Addirittura assenza di qualunque gratitudine. Perché noi dovremmo essere grati di ricevere il cambiamento corporeo. Noi dovremmo ringraziare il corpo sempre. Ringraziare ogni modificazione sempre. Sempre grazie e sempre grazie e sempre grazie. Grazie che non finiscono mai. se avessi imparato la lezione. Batticuore è splendido. Batticuore. Perché viene per salvarmi. Viene per tirarmi fuori da quel pozzo. Tirarmi fuori da quel buco. Lui fa il tentativo obbligato perché è obbligato per lui. Se io sto intensificando l'errore, lui lo deve segnalare. E quindi innalza la sensazione. Se c'è il rifiuto, inizia l'avvitamento. Quindi lui produrrà un effetto sempre più intenso, un cambiamento più marcato, al quale noi risponderemo. Ormai, la seconda o terza volta, se non sono preparato, se non ho ricevuto l'educazione e l'istruzione giusta, risponderò male e prenderà lui il governo e ci darà una lezione molto dura. Difficile da dimenticare. Giustamente difficile da dimenticare. Questa è la sequenza. Cioè tu ti oppone, tu diventi avversario del tuo corpo, ma lui che sostiene la tua vita in ogni istante. Tu, noi, non possiamo fare niente senza di lui. Lui ci fa addormentare, lui ci sveglia, lui ci fa nutrire, lui ci fa divertire, lui ci fa provare a nascere idee belle. Tutto fa lui, lui fa tutto. È il nostro amico, fa tutto, sempre tutto. E ci porta per mano verso la realizzazione completa della nostra vita. E come osiamo noi? Ma tanto, ma tanto folli siamo? O tanto disinformati? Va, non è che siamo folli. Non sappiamo. Ma è possibile che noi non... Tutti noi, tanti di noi, io direi che un numero smisurato di persone non conoscono questo suo ruolo e quindi travisano, interpretano male e si mettono in opposizione, in inimicizia. Si dissociano e combattono una parte decisiva del proprio essere. È così. Ma allora è una bella notizia, non è una brutta notizia. Vuol dire che se io lo faccio posso anche non farlo. Tutti noi possiamo fare o non fare qualsiasi cosa. L'importante è che la autorizziamo. Non è vero, dice, io avrei voluto, avrei potuto, ma non ho potuto, non sono riuscito a fare. Non è vero. Tu non hai voluto in quel momento e non l'hai fatto. E ci sta bene così. A ognuno le sue competenze. Al corpo di tentare di aiutarci, guidarci, sollevarci. Quindi veramente essere uno scudiero e una vedetta infallibile per tracciare il solco e prendere una strada sicura, una strada giusta, una strada che fa crescere la nostra persona, non una strada che l'austacola la persona, ne ferma lo sviluppo, ne rallenta lo sviluppo temporaneamente, ben inteso. Per portare, scusate, benessere e pace, per portare benessere ci vuole la pace. Per portare pace ci vuole la sospensione della guerra. La guerra qual è? La guerra è tra te e una parte della tua persona, che è il tuo corpo. Noi siamo anche il nostro corpo. Noi siamo il nostro essere mentale e spirituale, ma anche corporeo. E quindi portiamo pace, portiamo amicizia, fidiamoci l'uno dell'altro e avremo delle belle, belle cose che osserveremo. Le persone che hanno provato un attacco di panico non lo dimenticheranno mai più. È vero, è giusto che non lo dimentichino mai più. Però non è mai troppo tardi per imparare, oppure potreste avere la fortuna di incontrare una persona che vi aiuti a imparare le cose che non conoscete. e che sono anche semplici, perché la correzione è del disturbo di attacco di panico, perché il disturbo si distingue dall'attacco di panico, perché dopo un attacco di panico o più di un attacco di panico alcuni entrano in un atteggiamento del tutto nuovo, che è il timore dell'attacco di panico successivo, per cui la loro vita non è più la stessa e tentano di fare qualsiasi cosa per prevenire, per non rischiare, non esporsi alla possibilità di un ritorno di quell'esperienza che è stata molto traumatica. È vero, è stata traumatica, ma è stata traumatica in modo calcolato da parte del cervello, perché ha mandato centomila segnali, tanti inviti, tanti inviti. Quando noi a qualcuno che ci tratta da nemici, che si comporta come un nostro nemico, che si comporta male, gli mandiamo tanti inviti, poi a un certo punto gli diamo anche una scossa. Ecco, l'attacco di panico è un'azione di scossa, non ostile, ma di scossa, perché non si è dimenticato con questa disinvoltura ciò che stiamo facendo, ciò che stai facendo, ciò che nessuno, spero in futuro, voglia pian piano fare più, avere inemicizia con il proprio corpo e i segnali che lui manda. Un saluto a tutti, mi raccomando, allora impariamo anche dall'attacco di panico, evitiamo di portare lui, diciamo, lui, il cervello, a doverci dare un'ulteriore lezione dura. È come un colpo di bastone molto pesante. Il corpo è in grado di fare tutto, anche di peggio. Non costringiamo il corpo, non lo costringiamo, cerchiamo di imparare. Ecco, io vorrei che, spero che voi ascoltiate, riascoltiate, mandiate il film indietro, poi il film avanti, impariatevi, facciate dei propositi, ci mandate domande, dove noi risponderemo con più chiarezza parti che non abbiamo potuto mettere magari in pochi minuti. Però lo faremo, quello che non abbiamo fatto oggi. È una promessa di Antonino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.